La mia passione per la terra nasce dalla mia famiglia, in special modo da mio padre che si occupava dell'azienda agricola. Noi siamo in quelle che sono da sempre state le terre della mia famiglia, la famiglia Spinola, che è una famiglia di antiche origini genovesi. Abbiamo 15 ettari di vigna, tutti a Cortese di Gavi. Siamo a Rovereto, tra Rovereto e Tassarolo, che è una delle zone più vocate per la produzione di Cortese. Dunque faccio solo Gavi e lo faccio anche in una maniera naturale. Grazie a dove siamo locati abbiamo un'esposizione ottima al sole e anche grazie all'aria che ispira dal mare c'è un microclima particolare. Il Gavi, per la sua particolare caratteristica minerale, piace molto all'estero perché è un vino che si accompagna con tutti i piatti della cucina internazionale. Esportiamo dagli Stati Uniti, al Giappone e ultimamente anche in Gran Bretagna. Grazie alla sua acidità è un vino anche che può invecchiare nel tempo e avere delle caratteristiche diverse da quelle iniziali. Se quelle iniziali sono più che altro floreali e di frutta fresca, nel tempo assume dei connotati di frutta esotica tipo ananas e banana. Quindi il vino anche in bottiglia ha una sua vita. L'innovazione c'è e mi piace questo connubio storia del Gavi e innovazione. In questi anni comunque ho sviluppato, grazie alla collaborazione del mio agronomo e del mio enologo, anche delle novità. Per esempio produco da me stesso i lieviti, i lieviti quelli che servono per la fermentazione. Sono lieviti autotoni che ho estrapolato, grazie alla collaborazione di un laboratorio chimico, dalle vigne più vecchie. Abbiamo scelto il clone più forte, quello che portava la fermentazione dell'uva fino alla fine, e l'abbiamo riprodotto. Con la collaborazione di un rabbino americano siamo partiti da un Gavi senza solfiti per arrivare al primo Gavi Kosher nel mondo. Nel 2014 ho chiesto la conversione biologica, che nel giro di tre anni mi porterà a fregiarmi della certificazione bio sulle bottiglie. Questo mi permette di fare un vino veramente unico e genuino, che rispecchia la mia azienda, l'aria e tutti gli animali che ci vivono. Grazie a tutti.